Perché iscriversi al Master Food & Wine di RCS Academy? Per tantissimi motivi. Il primo è che credo che noi siamo l'unico quotidiano italiano ad aver creato da subito un sistema intorno al food e quindi abbiamo acquisito una serie di competenze abbastanza uniche nel panorama nazionale. Lo dico perché credo che per chi decide se iscriversi a un corso il sapere che troverà degli insegnanti che provano ogni giorno sul campo come va comunicato il cibo, come va raccontato il cibo e dove va la narrazione del food, credo che sia un valore aggiunto. L'altro tema è che questo è un Master che sarà introdotto soprattutto sulla comunicazione del cibo. Chi vuole raccontare il food deve iscriversi a questo Master perché sia gli insegnanti, sia le esperienze che farete ma anche le testimonianze che troverete sono tese a creare un vero e proprio comunicatore 4.0 del cibo. Ci aspettiamo che i ragazzi che escono da questo Master possano entrare non solo nelle strutture che comunicano quindi giornali, agenzie ma anche e soprattutto nelle aziende alimentari che in questo momento sono veramente a caccia di figure che sappiano raccontare i loro prodotti in maniera innovativa. Grazie a tutti i nostri spettatori